Era stata travolta lunedì scorso a Palermo, in via Quarto dei Mille, nella zona di Corso Calatafimi. Subito la corsa in ospedale, dove era stata trasportata in codice rosso, poi in ricovero all'ospedale policlinico in terapia intensiva, ma per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È morta oggi Maria Rosa Violante, 61 anni, investita, mentre attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali. A travolgerla una Nissan Micra guidata da una donna di 59 anni. Secondo alcuni testimoni, l'automobilista aveva raccontato di essere stata abbagliata dal sole, dunque di non essersi accorta del pedone. Caduta a terra, Maria Rosa Violante aveva riportato lesioni gravissime. L'incidente era avvenuto all'indomani dell'altra tragedia in via Libertà, dove a perdere la vita era stata una ragazza di 28 anni. Si allunga così la lista delle vittime di incidenti stradali per le vie cittadine.